E' stata discussa stamattina in Consiglio Comunale la mozione di sfiducia ai sensi dell'articolo 54 del regolamento con specifico riferimento alle politiche ambientali e dalle deleghe esercitate dall'assessorato. Dopo quattro ore di dibattito la votazione ha avuto l'esito di respingere a maggioranza la sfiducia. Sinceramente ho letto con attenzione più volte la mozione e ho ascoltato con molta attenzione tutti gli interventi, da Giannello a Lettieri passando per tutti gli altri interventi e sinceramente non ho compreso alla fine il voto su questa mozione, quale effetto produrrà, considerato che ci sono all'interno della mozione, come evidenziava anche lo stesso Consiglio Rinardi nell'ultimo intervento, motivazioni profondamente opposte, radicalmente opposte sulle scelte strategiche che questa amministrazione ha assunto sulle politiche ambientali e quindi io credo che con quello spirito noi dobbiamo guardare, nella chiarezza dei rapporti, credo che il messaggio che deve uscire da questo Consiglio Comunale è quello della chiarezza e che ci sia un voto che sia un voto chiaro, leggibile a tutti i cittadini napoletani.